Tre appelli andati a vuoto, nulla di fatto. Ieri sera a Nocera Superiore per il conto consuntivo senza numero legale, l'assise non si è neanche insediata. Lunedì in seconda convocazione basterà la presenza di cinque consiglieri comunali. Dunque si conferma dato inconfutabile ciò di cui il sindaco Montalbano aveva già preso atto. A Nocera Superiore non c'è più una maggioranza. Tuttavia il primo cittadino, al di là di tutto, rimarca un elemento di responsabilità. Il conto consuntivo è il rendiconto di ciò che è stato fatto nel 2012. Dunque quelli che hanno amministrato dovrebbero votarlo quantomeno per non disconoscere quanto fatto. Il consuntivo secondo me è un argomento che spetta chi è amministrato per un anno, quindi già questo è un senso di responsabilità. Siccome ho digliato in consiglio comunale che noi andiamo avanti per argomenti e per cose che possano riguardare la città avendo fatto un'aggiunta tecnica. Adesso chi è amministrato nel corso degli anni e nell'anno precedente siamo responsabili, sono anche responsabili coloro i quali facciamo parte dell'amministrazione per cui credo che il senso del dovere imponga di venire in consiglio comunale perché non è che rispetta un elemento, non è il bilancio di previsione in cui si decidono le cose che bisogna fare per la città, sono l'estratto conto di un anno di gestione. Il sindaco nell'ultimo consiglio comunale ha ammesso di non avere la maggioranza, in realtà stiamo assistendo al fallimento di questa maggioranza che non c'è. Il sindaco doveva venire con una maggioranza coesa in quanto il conto consultivo non è altro che la gestione di quest'anno di lavoro che non c'è stato io dico. La mia posizione è quella del mio gruppo, è molto chiara quindi noi sappiamo come dobbiamo votare. Contro? Noi votiamo contro ma in coerenza con tutto quello che abbiamo fatto, noi siamo all'opposizione da tre anni quindi proprio il consuntivo avendo fatto opposizione non lo possiamo votare. Il lavoro è svolto durante l'anno. E infatti se abbiamo contestato quello non possiamo approvare il consuntivo adesso. Grazie a tutti.